Amici buongiorno, grazie a tutti quelli che ieri sono passati a trovarmi e ora è arrivato il momento di svuotare il furgone per chi volesse venire ad aiutarmi, è il benvenuto. Allora per tutti quelli che si chiedevano o che mi hanno chiesto se avevo svuotato il magazzino e l'avevo portato in fiera, ora vi faccio vedere quello che è rimasto in magazzino. Allora faccio un breve video, come vedete è ancora pieno. Qualche buco c'è, c'è un po' di casino, ma penso che ancora un 4-5 furgoni di oba. Questa zona è anche toccata, videogiochi, così non ho portato nulla. Giocchi di scatola, macchinine, non ho portato nulla. Senza contare la zona Lego. Bene ragazzi, se volete venire ad aiutarmi, siete benvenuti. Ciao ciao, un saluto.